Musica Ammi l'arte, gioielli e design. Mi chiamo Martina e mi piacerebbe presentarti la mia visione della moda che è fuori dall'ordinario. Dalla pittura con pietre preziose all'altissima bigiotteria con uno stile fortemente personalizzato. La ricerca dell'essenza del lusso e dell'eleganza mai scontata mi ha portato alla creazione della nuovissima ed esclusiva collezione Amiche Gioiellose. Vieni a scoprire in showroom la nuova collezione di abiti da giorno e da sera, realizzati interamente in Italia, dipinti a mano con la tecnica dell'action painting. Preziose passamanerie e preziosi swarovski rendono ogni modello unico ed inimitabile. Scegli la tua opera d'arte da indossare, è in vendita anche online. Musica